Intanto un piacere conoscere Giovanni Pinto, è arrivato nel mercato di gennaio dal Parma ex Ascoli lo scorso anno, abbiamo visto all'Opera proprio, se non vado errato all'Adriatico. Sì, esatto. Buonissima partita, complimenti perché me la ricordo. Grazie, grazie. L'anno scorso è una partita cruciale per noi, inizio maggio, se non mi sbaglio era la penultima, venimo qua e vinciamo 1-0. Un gol di Bianchi, aveva già segnato il match di andata, parlando dell'attualità, del presente, il tuo momento lo aspetti, diciamo con fiducia? Sì, sicuramente aspetto con fiducia il mio momento, pazientemente, continuo ad allenarmi per riprendere la forma fisica, perché comunque sono stato fermo parecchio. Che cosa è successo nello specifico? Problema fisico, diciamo, che mi ha condizionato a inizio novembre, sono stato fermo due mesi e mezzo, quindi è normale che ci serva un po' di tempo per riprendere la forma fisica. Che cosa rimane di questa sconfitta partita a Benevento, che ci può stare sulla carta perché il Benevento è una delle squadre più attrezzate, insomma, costruite per vincere, però c'è un po' di rammarico, un po' di delusione? Sicuramente un po' di rammarico c'è perché eravamo arrivati a cinque minuti dalla fine, che eravamo sull'1-1, potevamo portare un punto a casa che tutto sommato ci poteva dare fiducia, ovviamente a Benevento soprattutto perché a Benevento non è facile giocare una piazza importante, una squadra importante che sicuramente lascerà pochi punti sul suo campo. Però purtroppo ormai è andata così, non dobbiamo fasciarci la testa, dobbiamo andare avanti e pensare alla partita di domani che è fondamentalissima per noi. Lo Spezia tra l'altro è un avversario che gioca molto bene il calcio, è una squadra che fa dell'intensità, del dinamismo le sue virtù peculiari. Sì, sicuramente, il fatto che gli mancano due persone fondamentali, due pedine fondamentali avanti non ci deve far cullare perché sono una squadra che gioca molto bene, hanno sostituti adeguati. Noi dobbiamo entrare in campo, essere tranquilli e disputare la nostra partita perché siamo in grado di poter portare l'intera posta in palio dalla nostra parte.